Salve a tutti! Continuiamo lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con la parte relativa alla GSE, ovvero Generalized Statement Equation, che ci consente di modificare l'equazione di statement originale in modo da poter descrivere le perdite nel nucleo dell'induttore per via del fenomeno dell'isteresi in funzione del tempo. Quindi l'equazione originale l'abbiamo già vista negli scorsi video ed è un'equazione in funzione della frequenza e dell'intensità del campo magnetico che si instaura nel nucleo dell'induttore e che è valida solo per correnti al regime sinusoidale. Oggi invece vedremo questa equazione qui, dove in pratica la perdita per l'isteresi nel nucleo, viene scritta in funzione del tempo. Ed oltre al valore che viene assunto dai coefficienti k1, alfa e beta, si vede come la potenza persa istantaneamente a causa dell'isteresi del nucleo sia direttamente proporzionale all'intensità del campo magnetico in quell'istante moltiplicato per l'intensità della sua variazione. E questo ci torna anche a livello intuitivo. Infatti quello che ci sta dicendo questa formula è che maggiore è l'intensità di variazione del campo magnetico, quindi maggiore sarà la sua derivata e maggiore sarà la perdita proporzionale a questa variazione. Quindi in pratica questo termine di derivazione prende le vesti di quella che era la funzione nella formula precedente. Inoltre questa equazione ci dice anche un'altra cosa, ovvero che a parità di variazione del campo magnetico le perdite saranno più alte o meno alte a seconda del valore di intensità del campo magnetico in quell'istante. Ora, com'è che facciamo partendo da questa formula che ci dà il valore di perdite istantaneo a risalire al valore di perdita medio in un arco temporale da noi scelto? La risposta è molto semplice, ovvero si va ad effettuare l'integrale dell'equazione precedente nel periodo di osservazione, ovvero da 0 a t diviso la lunghezza del periodo stesso. Ed in questo modo riusciamo finalmente ad ottenere il nostro valore di perdita, che corrisponde al valore medio delle perdite nel periodo di osservazione. Adesso ultima cosa che ci resta da fare è quella di capire che valore assumono i coefficienti k1, alfa e beta. Partendo dai coefficienti della formula precedente che venivano ricavati in modo sperimentale, partendo dalle curve di perdita che si osservano sui datasheet del materiale, otteniamo che alfa è uguale proprio al coefficiente a, beta è uguale alla sottrazione del coefficiente b meno il coefficiente a, mentre per quanto riguarda il coefficiente k1 qui le cose si complicano un attimo, ma possiamo vedere che questo sarà proporzionale al coefficiente alfa diviso il valore di questi termini. Ora, come si può vedere, questo integrale è leggermente complesso da risolvere a mano, ma lo si può fare molto semplicemente attraverso una integrazione numerica, ad esempio andando ad utilizzare software come MATLAB, in modo da poter ricavare facilmente il valore di k1. Adesso, per poter verificare che tutto quello che è stato detto finora è corretto, l'unica cosa che bisogna fare è un test. Quindi sono andato ad implementare questa funzione sul software LTSPICE e adesso andiamo a vedere se gli stessi risultati che si ottengono in modo analitico per correnti sinusoidali. Quindi supponendo di voler utilizzare la ferrite PC40 sono andato già a ricavarmi i valori di alfa, beta e k1 partendo dai valori di A, B e K di questo materiale, e adesso supponendo di voler utilizzare il core EE25 che corrisponde a un volume di materiale pari a 3 cm³, voglio verificare che i valori di perdita che si ottengono con questa formula siano proprio uguali ai valori di perdita che si leggono sul grafico in questi punti. Ovvero come primo punto abbiamo che alla frequenza di 200 kHz e con un campo magnetico massimo di 0,1 tesla abbiamo che questo core dissipa 0,58 watt. Mentre al punto 2 quando la frequenza vale 300 kHz e il campo magnetico massimo resta uguale a 0,1 tesla la potenza dissipata dal core è di 1,07 watt. Quindi adesso ci spostiamo su PC e andremo a verificare se la formula implementata su LTSPICE dà gli stessi risultati. Siamo ora su PC ed ecco qui la formula riportata su LTSPICE quindi per verificare la sua correttezza andrò ad effettuare questa simulazione ovvero farò passare per questo induttore una corrente nota quindi con picco 2A e varierò di volta in volta la frequenza quindi nelle due prove metterò prima 200 kHz e poi 300 kHz. Il valore di 2A è stato scelto in quanto avendo dato a questo induttore una permeabilità relativa di 110 con un corrispondente numero di giri pari a 20 per avere 50 micro risulta proprio che quando vi è un picco di 2A il campo magnetico è proprio uguale a 0,1 tesla. Quindi adesso andrò ad effettuare la simulazione. quindi per leggere il valore di perdita basterà ad andare ad effettuare la lettura di potenza su questo generatore e come si può vedere premendo CTRL e il tasto sinistro del mouse LTSPICE ci dà la funzione di integrale dove lui già effettua la media ed in questo caso a 200 KHz otteniamo una perdita di 587 millivatt. Adesso modifico la frequenza mantenendo costante la corrente quindi mi porto sul secondo punto a 300 KHz e riavvio la simulazione. Rieffetto la misura ed ecco qui. Adesso abbiamo che la perdita dovuta all'isteresi è salita a 1,06. Come abbiamo potuto vedere su LTSPICE quando un induttore viene attraversato da una corrente sinusoidale le perdite per isteresi che si ottengono utilizzando questa formula sono perfettamente identiche con quelle che si ricavano dal grafico. Infatti per il punto 1 avevamo previsto come perdite utilizzando il grafico 0,58 Watt e in effetti su LTSPICE abbiamo misurato 0,58 Watt. Stessa cosa vale anche per il punto 2 infatti avevamo previsto 1,07 Watt e su LTSPICE abbiamo misurato proprio 1,07 Watt. Quindi come possiamo constatare sembrerebbe che LTSPICE riesca a prevedere correttamente le perdite per isteresi nel nucleo dell'induttore e il vantaggio sarà che potrà essere utilizzato per qualsiasi forma di corrente. Infatti è ragionevole pensare che se riesce a prevedere le perdite in regime sinusoidale vuol dire che la formula è stata implementata correttamente e quindi darà risultati molto molto più affidabili per qualsiasi altra forma di corrente a cui sarà soggetto l'induttore. Molto bene, per oggi quindi è tutto, alla prossima! Grazie per la visione! Grazie per la visione!